Buongiorno a tutti ragazzi, bentrovati ancora qui su Malati per le Crypto. Oggi vediamo nel dettaglio anche il grafico di Ethereum. Come al solito non sono consigli finanziari, ma è semplicemente la mia visione in termini tecnici di queste criptovalute. Partiamo dal grafico settimanale della vice regina o vice re del mondo dell'universo cripto, la prima delle altcoin, come la definisco in tanti, e vediamo come stia provando a ripartire avendo rimbalzato in maniera molto forte sul supporto dinamico, quindi sulla media mobile a 21 e come e quanto stia tenendo botta il supporto appunto in zona 2140. Vediamo questa candela che ci sta proponendo la settimana, molto forte la spinta di alzista e però dobbiamo essere più specifici, quindi andremo a tuffarci nel time frame. Eccolo qua. Ieri alla fine è riuscita a chiudere sopra, nonostante la mia analisi delle 8 di sera, alla fine è riuscita a fare il passo sopra. Il pullback che ho indicato la mattina nella mia analisi è stato veramente, come dice il mio maestro, chirurgico. E quindi andiamo a vedere un po' se riusciremo a toccare la resistenza dei 3300 dollari. Quindi personalmente massimo ottimismo su Ethereum, Ethereum che sta mostrando tanta forza in spinta di alzista e comunque debolezza per quello che riguarda gli storni attuali. Quindi possiamo essere abbastanza fiduciosi e comunque ottimisti in quanto sta provando a ripartire. C'è da dire una cosa molto importante ragazzi, c'è comunque il mini trend che ancora è, diciamo così, leggermente orientato a ribasso, ma andiamoci a vedere nello specifico cosa dice il grafico H4 per essere più concreti. Vediamo come lo storno c'è stato, è stato anche abbastanza ammarcato. Vediamo un attimo questa zona qui, zona molto importante. Storna qua e se tengono i supporti andiamo secondo me diretti ai 3200-3300 dollari. Quindi assolutamente sì, mantengo la mia visione rialzista per quello che riguarda il brevissimo attuale e ovviamente diventerò più ottimista quando ritrovassi Ethereum sopra zona 3005. Quindi personalmente su Ethereum sono più ottimista che su Bitcoin, anche se comunque vediamo che il grafico H4 ci offre buone indicazioni anche per la regina, ovvero per Bitcoin. Chiudo con Ethereum dicendo che fate attenzione a dove e a come gestite la posizione, quindi mi raccomando non forzate la mano e cercate di essere il più possibile lucidi nell'affrontare i mercati. Con questa io vi ringrazio e ci vediamo più tardi per le prossime analisi. Mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun aggiornamento. Nei commenti per scrivere qualsiasi cosa che vi possa interessare. Un favore che vi chiedo qualora vedesse in contraste dello spam nei commenti di segnalarlo perché molto spesso entrano queste pagine di buffoni e comunque profili falsi per fare solo pubblicità e magari rubare qualche soldo a persone un po' ingenue. Quindi segnaliamoli subito, blocchiamoli il più possibile, ok? Vi ringrazio, buona giornata e a tutti quanti. Ci vediamo presto qui su Malati per le Crypto. Grazie. Grazie.